E' arrivato a Cremona luglio e ha compiuto tutta la preparazione fin dalla partenza per il ritiro estivo Mata Taibi alla centro statunitense di 203 centimetri, 26 anni, originario dell'Iowa alla prima esperienza italiana dopo aver giocato in Ungheria, Belgio e Turchia. Sono molto contento di essere qui e felice di poter sposare anche il messaggio di Padani Acque cogliendo l'occasione di fare qualcosa per l'ambiente. Non vedo l'ora che sia domenica e di poter cominciare la stagione e di fare sul serio. Sono le sue prime parole. In Preseason ogni giorno è utile per fare un passo avanti e conoscere meglio i compagni sia in campo che fuori ma adesso siamo arrivati al dunque e sono contento di quanto abbiamo fatto nell'ultimo weekend in Supercoppa Bari perché abbiamo fatto un passo avanti anche se non siamo riusciti a vincere le partite ma adesso arriva il bello. Entusiasta di essere arrivati in Italia in un campionato dove c'è più gioco di squadra più che di una squadra, spiega dopo aver visto le prime partite della prima giornata sono rimasto impressionato dal livello molto alto, dal livello di professionismo, dalla competitività e dalla voglia di vincere che mettono tutti i giocatori in campo. Per stare a questo livello bisogna dare qualcosa in più. E ancora su coach Sacchetti è un grande insegnante da cui si può sempre imparare qualcosa. Soddisfatto anche di essersi ambientato nel migliore dei modi a Cremona assomiglia alla terra da cui provengo soprattutto per i campi, il clima e mi sento come a casa e questo mi rimette a mio agio.